Leopardi le opere. Giacomo Leopardi scrive le sue opere in una visione pessimistica della vita causata dalla solitudine e dalle condizioni di salute che lo portano a riflettere sulla natura e sul destino dell'uomo. All'inizio la natura è una madre amorosa che aveva creato la natura per la felicità. Poi il progresso ha allontanato l'uomo dalla natura e questo si definisce pessimismo storico. Infine la natura è vista da Leopardi come una forza meccanica indifferente all'uomo volta soltanto alla trasformazione della materia e questo viene definito pessimismo cosmico. I temi principali sono la giovinezza, l'età felice, l'illusione e la speranza che finisce con l'età matura. Anni in cui ci si rende conto che i desideri sono vani. La vita è sofferenza e dolore. L'uomo viene dal nulla e torna al nulla e il dolore è soltanto una momentanea assenza che si trasforma in gioia e che poi ritorna dolore. I temi principali sono la natura, l'uomo è fonte di sventura, lascia il desiderio di felicità e poi questo desiderio si trasforma in infelicità e l'uomo può trovare conforto soltanto nella poesia. La poesia si deve basare sulla musicalità, è una concezione romantica, quindi viene abbandonata la metrica fissa e scrive in ne casilla bisettenari e versi sciolti senza rima. Le opere. I canti sono raccolti di poesie pubblicate due volte, la seconda volta nel 45 da Ranieri, sono 41 componimenti poetici, patriottici, politici e filosofici ed esprime in essi Leopardi la sua concezione della vita. Ci sono poi le operette morali che sono una raccolta di dialoghi e racconti scritti tra il 1824 e il 1832, scritti in prosa e l'argomento è morale e filosofico ed esprime il pessimismo. Poi c'è lo Zibaldone che è una raccolta ordinata di pensieri, giudizi, ricordi e riflessioni scritti tra il 1817 e il 1832.